Morire di lavoro a 71 anni nel 2016 purtroppo si può. L'ennesima morte bianca in provincia di Arezzo è avvenuta all'interno della tenuta Vitereta nel comune di Laterina, ma non per le attività legate alla nota azienda agricola. Leonardo Giunti, 71enne di Foiano della Chiana, era arrivato in mattinata alla tenuta per effettuare un sopralluogo. Doveva controllare le docce esterne del tetto dei fabbricati per un preventivo richiesto all'azienda idraulica di famiglia. È salito su una scala, improvvisamente ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra, compiendo un volo di 4 metri. Ha battuto violentemente la testa ed è morto sul colpo. Ad accertare il decesso è stato il personale medico ed infermieristico giunto sul posto a bordo di un'automedica, che poi ha allertato il Pegaso e i mezzi del 118. Il Pegaso non è mai decollato perché purtroppo non c'era più nulla da fare. L'ambulanza della Misericordia della Valdambra non è mai arrivata perché a sua volta coinvolta in un incidente ad un chilometro dal luogo della tragedia. Lo scontro con un Fiat Doblò è avvenuto lungo la provinciale Val d'Ascione. Ferito lievemente, il conducente del Doblò è stato trasportato al Sandonato con un altro mezzo del 118 giunto da Arezzo. In seguito alla tragedia, la tenuta di Vitereta ha annullato l'evento che era in programma nei prossimi giorni, cantine aperte. Mentre la segreteria regionale della CGL commenta attraverso Mauro Fuso. Non è la prima volta, dice, che accadono fatti del genere e si erano già verificati, lasciando intravedere probabilmente una scarsa attenzione alla sicurezza sul lavoro. Prima che si produca una strana assuefazione e una cultura che presta scarsa attenzione alla vita di chi lavora, dobbiamo reagire con grande forza.